Cosa hai scelto? La tipologia B, il tema sul dono. Io ho scelto il tema di ambito tecnico-scientifico. Quello socio-economico, sulle nuove responsabilità. Ma mi è sembrato abbastanza banali le tracce, nel senso che non... appunto quella del dono dava spazio a molte banalità. Anche le altre, penso, più o meno lo stesso discorso. È stato davvero semplice, hai trovato qualche difficoltà? Ma era difficile da, diciamo, rendere in una maniera interessante e originale, perché altrimenti si scade nella banalità. Però le tracce erano comunque interessanti. Come pensi che sia andata? Come tutti i temi, o da due o da nove? È andata, innanzitutto. Ho fatto il tema della tipologia B, sulla violenza, il rapporto, diciamo, della violenza-non-violenza del Novecento. E l'ho affrontato, diciamo, analizzando, innanzitutto il rapporto della violenza-non-violenza, dei risultati che ciò ha voluto dire, diciamo, nella società attuale. E quindi speriamo. Ho fatto il tema di ambito tecnico-scientifico e spero sia andata bene, sinceramente. Spero in un 12, così. Beh, è andata abbastanza bene. Ho fatto tipologia B, c'era un saggio breve sulle nuove responsabilità. Comunque le tracce di per sé non erano complicatissime. Forse, appunto, solo un'analisi del testo, la prima, che era di Saba, però comunque erano abbastanza fattibili. Grazie.